Musica Oh, amici in visione e in ascolto, ben ritrovati. E ben ritrovati insieme a Tosca in persona, caspita. Tosca ovviamente nell'opera, mentre invece nella vita a Virginia Tola, che ringrazio tanto di essere qui venuta a trovarci. Tante grazie a voi, con molto piacere. No, prima mi correggeva, però non ho voluto. Essendo argentina si dovrebbe dire Virginia, che sarebbe... Beh, diciamolo, perché se ci vedono dall'Argentina poi così almeno... Allora, Tosca, che prima microfoni spenti, mi dicevi che hai debutato di recente, perché l'anno scorso, però in compenso poi l'hai fatta con una intensità incredibile. Sì, quello è vero. L'ho debutata esattamente un anno fa a Roma, al Teatro dell'Opera di Roma, e loro hanno fatto una produzione molto interessante, perché hanno fatto praticamente con le stesse scene che ha fatto Puccini originalmente, e le stesse anche vestiti, era tutto. E da parte lo stesso teatro? Lo stesso teatro, appunto. E poi la regia anche hanno rispettato esattamente quello che diceva nello spartito. Allora è stata un'esperienza enorme per me, perché essendo la prima volta che io facevo la Tosca... Meglio di così. Meglio di così, per me, è veramente un battesimo molto interessante. Ti dico una cosa, tua regia, è un bellissimo profilo, ma vedi, ecco, se ti metti anche un po' così... Per i nostri amici. No, e poi dico che anche hanno voluto farla a giugno e a dicembre, e ho fatto tutte queste tre periodi della Tosca a Roma, e poi l'ho fatta anche a Dresda, una produzione un po' più moderna, però comunque molto bella anche. E beh, adesso tocca qui, che è una produzione, secondo me, fantastica, incredibile. Siano le scene di David Livermore, la sua regia, anche se questa è una ripresa, però c'è sempre la sua firma, no? E i vestiti di Gianluca Falaschi, che sono impressionanti. Quindi sono veramente molto contenta che un'altra volta mi tocca fare una Tosca bella, perché già la musica è bella. La musica, quella va per conto. Appunto, il personaggio anche, quindi questo mi sento molto fortunata. Ecco, il personaggio che, fra l'altro, ha una forse delle arie più famose di tutto l'Ottocento, che è Vissi d'Arte, Vissi d'Amore, che ha fatto quasi tutti hanno nelle orecchie nella versione di Maria Callas. Sì, chiaramente. Fa un po' tremare le vene. Sì, arrivare a quel momento, sì. Io sono molto legata a quest'area, perché io ho incominciato la mia carriera quando io ero molto piccola, studiavo nel Teatro Colón di Buenos Aires, perché io, essendo argentina, avevamo questo teatro incredibile. Allora, mentre studiavo mi è arrivata la proposta di fare un concorso alla Norvegia, il concorso della Regina Sonia, che è la regina della Norvegia, e praticamente ho vinto con il Vissi d'Arte. Io avevo 22 anni, ero molto giovane, c'era una giuria molto bella, perché c'era Ingrid Bioner, Bridget Nilsson, Theo Adam, Krista Ludwig, era pazzesco. Io avevo quella innocenza e quell'ignoranza anche dell'età, e ho vinto con il Vissi d'Arte, che tra l'altro non l'avevo cantato mai in pubblico, perché io non pensavo di arrivare all'ultima fase, diciamo. E veramente, perché come Puccini, un'aria discendente per tutta la prima parte, e poi invece esplodere la seconda. Però è un'aria molto lirica in confronto a tutta l'opera. Tra l'altro sì, penso che Puccini era stato indeciso, voleva toglierla quest'aria, perché gli sembrava che interrompesse la vicenda drammatica, mentre invece poi dà proprio il trampolino per la seconda parte. È un pezzo meraviglioso. E io veramente ho sognato sempre fare questo ruolo, però con gli anni dopo, essendo un po' più cosciente di quello che era il ruolo, veramente. Meno incosciente di quando eri già. Quando ho cominciato, ho detto, beh, magari non lo farò mai, perché è veramente un pezzo... Mai, mai dire mai. Però dopo, con gli anni, uno va facendo il suo percorso. Sono convinto che sia un punto d'arrivo, perché è un'opera dove si recita veramente tante, duetti uno dietro l'altro. E poi lei come personaggio, io ho più o meno 15-16 anni di carriera e non ho mai fatto un personaggio come la Tosca, nel senso, lei è l'artefice della sua vita e lei non ha un fratello, un padre, un marito, un uomo sopra che la condizione in qualche modo. È lei quella che uccide, è lei quella che si uccide, è lei quella che un po' fa tutto. E fa anche da motore della vicenda all'inizio, perché c'è la famosa gelosia che ricorre sempre nell'opera, che in fondo all'inizio, lei è come se rimediasse il secondo o terzo atto dello sbaglio che fa nel primo, a cadere nella trappola di scarpia del suo ventaglio. Però come ruolo, io non avevo mai fatto un ruolo così, perché ho fatto, non so, sempre c'avevo, non lo so, la forza, la forza del destino, c'ho il fratello lì, non so. È vero, sono tutti i ruoli molto più protetti. Sì, tutti i ruoli che ho fatto di Mozart, sempre o ero sorella o ero figlia, o non lo so. Questo è veramente... Questo è il ruolo del titolo, si chiama Tosca, non a caso effettivamente. Anche, non lo so, un'altra eroina che ho fatto tanti anni fa, Traviatta, Violetta, però anche lei, lei subisce alla sua malattia, subisce al padre di Alfredo, diciamo, non avevo mai trovato un ruolo così e per me è molto importante, perché veramente ho provato nuove sensazioni nel recitare. E questa è una cosa che ci hai fatto venire voglia di ancora di più, lo diciamo soprattutto al pubblico. Ovviamente chi non è di Genova non può venire qui, ma per chi non è di Genova sabato pomeriggio ci sarà la diretta streaming, quindi in bocca al lupo e ti aspettiamo qui, ma prima ti chiediamo di fare un autografo qui sopra. Guarda, sei la prima, quindi puoi andare su tutto lo spazio che puoi. Vado sul mio nome, andiamo, ecco qua. Dove sono io. Ecco, facciamo un po' come fanno in Oriente. Esatto, come fanno fiamare tutto. Noi siamo molto orientali in questo. Bene, no. E' la prima volta al Carlo Felice, sicuramente ce ne saranno altri. Grazie mille. Sicuramente, grazie a voi. Grazie a voi.